La BPCO è comunque poter andare a teatro, fare casting, andare in triennale per l'evento che è programmato per i prossimi giorni, andare a fare qualche corsa, cioè corsa, camminata. La BPCO è andare in bicicletta, andare in vacanza da soli e la BPCO si può andare in montagna e anche fare le camminate in pianura, si può anche cucinare, fare le lasagne, la parmigiana che la BPCO non fa male la parmigiana. La BPCO è una malattia che ti porta a scoprire il valore degli affetti e quindi a valorizzarli e poter avere persone vicino, volontari, parenti, figli, amici che ti aiutino a rendere la vita più lieve e più leggera. La BPCO è prendersi cura delle persone fragili della mia famiglia e vivere una vita tranquilla. La BPCO è l'amore della mia famiglia. La BPCO è una situazione che affrontiamo insieme come famiglia. La BPCO è trarre il meglio della propria vita, è il lato empatico del mio dottore. La BPCO è mantenere una certa autonomia. La BPCO è sentirsi bene almeno qualche volta, fare le parole incrociate, vivere con coraggio, non rinunciare a vivere, richiede anche ottimismo verso la vita.